Ciao a tutti i follower Io sono Tifu, sono la Sena e vi parla e questo è oggi siamo in un altro video in questo video volevo parlarvi delle t-shirt per gli abbonati che vengono regalate puntate e fatte per l'abbonamento e sono state preparate 10.000 proprio per cercare la digerità che ho fatto dal Parma e mi so se sono via molto breve per andare... come c'è scritto t-shirt come c'è scritto una pagina facebook per il Palermo verano distribute dal 2 settembre al 5 ottobre presso showroom Pinto Ricami via Generale Arimondi 103 Ogni abbonato ha dovuto una sola maglia non potrà avere il cambio o essere duplicati e gli abbonati dovranno presentarsi con la protesta e con un documento d'identità che si potranno ritirare ai mai anche con un legato documento ed essere originale dell'abbonamento fino a 4 per minuto questo è il senso i primi abbonati andranno prima cioè adesso vedete gli abbonati da 2 a 999 riterranno la maglia dal 2 al 4 settembre gli abbonati da 1.000 a 1.999 dal 5 al 7 gli abbonati da 2.000 a 2.999 dal 9 all'11 gli abbonati da 3.000 a 3.999 dal 12 al 14 sempre settembre finchè non cambia mese gli abbonati da 4.000 a 4.999 dal 16 al 18 gli abbonati da 5.000 a 5.999 dal 19 al 21 gli abbonati da 6.000 a 6.999 dal 25 gli abbonati da 7.000 a 7.999 dal 26 al 28 settembre gli abbonati da 8.000 a 8.999 dal 30 settembre al 2 ottobre gli abbonati da 9.000 a 10.000 dal 3 al 5 ottobre gli orari da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 sabato soltanto dalle 10 alle 13.30 e lunedì a 2 settembre cioè il primo giorno dalle 16.30 alle 19.30 e sinceramente la maglia comunque non si vede bene ma comunque è uno spirale è la maglia che vedete in miniatura praticamente è una maglia carina e nera e qua c'è scritto poi sotto c'è scritto il numero del programma l'abbonamento e poi c'è lo sistema appunto del parello questo ragazzi è molto interessante ricevete un qualcosa in cambio per esservi abbonati ma comunque non è che bisogna abbonarsi solo per una moglietta bisogna apparsi perché si vuole cerchiamo di raggiungere i 10.000 abbonamenti perché noi siamo aquile e siamo fatti per volare inoltre non sono acquistabili singolarmente a parte cioè nel senso a parte quindi per forza di fare l'abbonamento per averle e questo è il video appunto per parlarvi di questo poi uscirà un altro video sulle maglie provvisorie ed appunto del palermo va bene ragazzi bella follower spero che questo vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video e bella follower e bella